E poi c'era l'adolescenza ragazzi, l'adolescenza era quel periodo in cui io mi svegliavo e dicevo ma sono viva purtroppo, in cui avevo un nemico numero uno lo specchio e in cui guardavo ai camion per strada non con paura ma con speranza erano insomma quei periodi in cui immaginate io andavo in vacanza al Circevo che è questa località romana molto snob e c'erano tutti questi ragazzi molto fighetti seduti e io invece mi nascondevo dietro cespugli come se fossi il conto bancario di uno sportivo alle fici e poi invece c'era mia sorella e faceva ragazzi volete conoscere mia sorella eccola là Michela, vuoi fare amicizia con questi ragazzi? Ragazzi mia sorella è simpaticissima Michela, ma per caso ti sei fatta la pipì addosso? E c'ero io che dentro ero marcia come il Tevere e facevo, sì, sono io ragazzi, sono io la sorella quella sana ostentando sicurezza di una trentenne quando avevo 15 anni e mi infilavo la sorbetta interna con tutto l'applicatore Grazie